Ben trovati a un'altra puntata di screenshot che fine ha fatto Rossella Corazzin, la 17enne di San Vito al Tagliamento scomparsa a Tai di Cadore nel 1975, una fine la sua ancora avvolta nel mistero. Recentemente questo caso è ritornato nel 2018 alla ribalta dopo le dichiarazioni del serial killer Izzo che per questa ragazza ha raccontato una fine tremenda, quella di essere finita nelle mani sue e dei suoi amici, i cosiddetti mostri del Circeo. Però che fine abbia fatto in realtà non lo sappiamo, anche se ci sono delle indagini che sono ancora in corso. Prova a tratteggiare quella che potrebbe essere tutta la vicenda dall'inizio fino ad oggi, quasi 50 anni di storia. Questo libro, Rossella Corazzin, una fine misteriosa, scritto da Giacomo Battara, Emanuele Minca e Francesco Altan. E proprio Francesco Altan è qui con noi oggi, criminalista, poliziotto in quiescenza, si è occupato durante la sua attività investigativa di tanti casi, tra cui quello del bombarolo del nord-est, una bomber, docente anche all'università della terza età di Codroipo e San Vito al Tagliamento e scrittore proprio per Minerva che edita anche questo libro. Allora Altan, buonasera, questo caso, insomma quasi 50 anni di mistero, questa povera ragazza, insomma, secondo le vostre indagini, che fine ha fatto? Buonasera, secondo le nostre indagini, innanzitutto bisogna dire che siamo partiti da tutti gli atti di indagine originali, quindi dall'inizio alla fine, grazie a Emanuele Minca e all'Avvocato Vascala abbiamo avuto accesso a tutti gli atti di indagine, dall'inizio, dal 75 fino ai giorni nostri. Da lì siamo partiti e da lì abbiamo visto che intanto abbiamo fatto il profilo vittimologico di Rossella, che era una ragazza di 17 anni, tranquilla, molto tranquilla, quindi con un livello di rischio vittimologico medio-alto comunque e per l'età giovane, 17 anni, e perché era una ragazza e perché era stata bocciata a scuola quell'anno. Le piste ci hanno portato a individuare subito Angelo Izzo, quindi l'ex mostro del Circeo, ora serial killer, potenziale, insieme ai suoi sodali, per sue stesse dichiarazioni, per sue stesse autoaccuse, e abbiamo visto che c'erano dei riscontri oggettivi anche a quello che diceva. Lo stesso Francesco Savario Pavone, che era l'ex procuratore di Belluno, disse che era attendibile e che sarebbe stato opportuno verificare quello che aveva detto. Lui lo avrebbe fatto, purtroppo non aveva la competenza territoriale, perché si trattava di un omicidio, omicidio avvenuto stando a quanto aveva detto Angelo Izzo sul lago Trasimeno, in quella zona lì, in una villa, quindi lui non aveva la competenza territoriale. Poi la procura di Perugia ha ritenuto di non credere a quello che aveva detto Angelo Izzo e quindi fu tutto archiviato. Però non c'era solo quella pista, c'era anche la pista delle messe nere, quindi a Tai di Cadore nel 75, incredibile ma vero, c'erano anche due sette sataniche, anzi una setta satanica e una parareligiosa, quindi sta ragazzina si è trovata in mezzo. E c'era anche Francesco Narducci, quello che poi è stato indagato nel mostro di Firenze, che con la sua bella onda bazzicava da cortina e gironzolava. E poi, dulcesi in fondo, nella vecchia volpera, quindi un allevamento di volpi, c'era un gruppo di ragazzi pregiudicati, che, cappelloni ovviamente all'epoca era quella, che avevano attirato l'attenzione di Rossella perché erano liberi, perché si mangiavano i panini, perché a suo dire vivevano in un mondo bello, di libertà, che lei probabilmente non aveva. Ecco, insomma, un mix perfetto per fare una brutta fine, sembrerebbe di dire. In che circostanze è sparita questa ragazza e poi quali sono state le prime indagini, insomma, come la si è cercata nei primi momenti? Allora, la ragazza è sparita di pomeriggio, aveva detto al padre che si sarebbero rivisti di lì a un'ora, un'ora e mezza, però all'ora convenuta lei non si presentò a casa, il papà si preoccupò subito, andò con lo zio a cercarla, nei percorsi che normalmente faceva lei a Tei di Cadore, e non la trovò. Andarono subito dei carabinieri, ma in quegli anni, per poter dichiarare una persona scomparsa, veniva a attendere 48 ore. Quindi, i carabinieri all'inizio propesero per una scomparsa, erano gli anni delle scomparse. Dobbiamo capire che dal 1974 al 2018 scomparvero circa 47 mila ragazzi e ne trovarono il 93,3%, quindi mancano all'appello 2.700 ragazzi circa. Stando sempre alle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno, Rossella era una ragazza a rischio, per tanti motivi. A perché era minorenne, B perché era femminuccia, C perché aveva avuto un problema scolastico, una bocciatura, eccetera. Quindi, tuttavia io mi chiedo, vai a Tei di Cadore in vacanza, ti ritrovi dalla padella alla braccia, è come il pulcino che trova la tana delle volpi, no? Che sono tutte lì. È incredibile, ma vero, purtroppo è stato così. Le indagini inizialmente sono state indirizzate verso la scomparsa, poi via via hanno preso una piega diversa, perché ha capito che non era scomparsa, quindi hanno investito sempre più uomini e mezzi, tra cui gli alpini, tra cui anche una committiva di San Vito che era andato via a cercarla, cani da ricerca, non c'erano i cani molecolari, però c'erano cani da ricerca, e i cani si erano fermati dove c'era la panchina. Poi lei è stata vista in due posti differenti negli anni. Prima l'aveva segnalata da un versante di Tei di Cadore, poi nell'altro, quindi le indagini sono state chiuse, poi riprese due o tre volte. Quando sono state chiuse? Ma sono state chiuse subito dopo, un anno dopo, due anni dopo, insomma non tanto. Poi sono state riaperte, perché c'era Massaro, un magistrato che credeva molto che fosse stata rapita, insomma, poi anche uccisa, ed era convinto che tutta la comunità sapesse, ma tacesse, in particolare, questa era la sua convinzione. C'è da dire che due anni dopo la scomparsa di Rossella, trovarono il cadavere di un'altra Rossella, Rossella Mutscheller, la trovarono in un torrente annegata, pare, ma non fecero né esame utoptico né esame tossicologico, quindi nulla di quello che si fa oggi per accertare le cause del decesso, e fu archiviato come incidente. In un posto del genere, non si può fare una cosa del genere, due anni prima, sparisce una ragazza così, e poi a distanza di parecchi chilometri, nell'Alto Adige, scomparve un'altra ragazza, 18 anni, la mamma di Rossella era in contatto con tutte queste famiglie, scomparsa più o meno di mattina, vicino a un lago, è mai più ritrovata. Quindi c'è un legame di fatto, lei dice, tra queste morti, tra questi presunti omicidi? Stando al maresciallo di Carabinieri, che indagava sul caso di Rossella Corazzin, ci potrebbe essere un legame, lui aveva rilevato un legame, tra lei e la Mutscheller in particolare, perché? Perché la Mutscheller frequentava la società bene di Cortina, quindi i romani, quindi anche i pariolini, ed era un soggetto a rischio anche lei, quindi c'era, nella sua mentalità investigativa, c'era questa convinzione che ci fosse un legame tra le due, che ci potesse essere perlomeno un legame. Questo caso, diciamo, va in archivio per un certo numero di anni, quando poi, alla fine degli anni dieci, diciamo, 2018 circa, Angelo Izzo fa questa confessione, riportando, insomma, alla luce questo caso. Perché, secondo lei, Izzo parla di Rossella Corazzin e della sua fine? Izzo è un sociopatico narcisista, per cui lui, quando ha le prime pagine dei giornali, è felice. Ha bisogno di questa visibilità mediatica, cioè non è uno che vive così. Dovete sapere che in carcere a Velletri lui adesso fa il pacere, è laureato in giurisprudenza, o comunque gli manca la tesi, quindi per i detenuti è un'autorità indiscussa, ha un prestigio all'interno del carcere. Lui ha detto tante cose negli anni, alcune vere, alcune no, ma molte sono vere di quelle che ha detto, e hanno costituito, cioè hanno permesso di aprire delle indagini che poi sono state concluse con delle condanne anche, quindi non è che dobbiamo prendere Izzo solo per cattivo elemento, dobbiamo prendere sia la parte buona e la parte meno buona delle sue dichiarazioni. Lui ha anche rilasciato un'intervista a noi, cioè abbiamo mandato, perché non si poteva fare altrimenti, perché gli era vietato fare interviste con i video eccetera, l'unico mezzo era mandare le domande scritte al carcere e lui ci ha risposto per iscritto. Quindi è interessante anche questo aspetto, vedere noi cosa gli chiediamo e lui cosa dice. Siamo curiosi. E poi c'è una dichiarazione che io vi leggerei per farvi capire il personaggio, perché secondo me è significativa di tutto. Questa la fece davanti a un magistrato dopo aver ucciso madre e figlia. Sono attratto dall'idea di dominare un'altra vita. Io sono terrorizzato dalla mia morte e ho la sensazione come se la morte altrui, data per mano mia, mi allontanasse dalla morte. È come se un altro me stesso mi guardasse uccidere. Se non mi fermavate chissà quanta gente avrei ammazzato. Ho perso la fede tanti anni fa, perché davanti a certi mali del mondo ho detto Dio, perché non fai qualcosa? Poi un giorno Gesù mi ha detto non è vero che non faccio nulla, io ho creato te. Insomma sono parole sicuramente molto forti. Ricordiamo anche che cosa ha detto Izzo riguardo alla fine di Rossella Corazzini. Riguardo alla fine di Rossella Izzo ha detto che sarebbe stata rapita dai suoi sodali all'epoca. Lui si trovava a Positano se non ricordo male. Quindi l'avrebbero caricata in un fuoristrada che stando le testimonianze poteva essere un Land Rover ma secondo noi poteva essere un Citroen Meari da come è stato descritto. Perché è così importante questo dettaglio? È importante perché cambia il tipo di autovettura. Sono state fatte indagini su entrambi i mezzi, lo dico subito. Poi sarebbe stata narcotizzata quindi caricata nel veicolo portata fino a Rimini e poi alla fine nella villa Narducci sul lago Trasimeno lì descrive anche i particolari la piastrella corosa dall'acido il tavolo segnato cioè quando è stato portato lì dalla via lui gli ha descritto gli ha portati sul posto esattamente cioè se uno non c'è mai andato in quel posto non può ricordare con precisione tutto c'è stato tutta la vita in carcere come fa a sapere come arrivarci lì e conosce tutto? Sì, è una cosa che sarebbe assurda. In questo libro ci sono tanti misteri a un certo punto compare la scritta sopra il forte a Tai di Cadore Tai come Perugia ci furono negli anni tanti che scrissero lettere anonime uno parlò della scuola esoterica della Rosa Rossa che è una potente loggia massonica c'era la massoneria era comparsa nelle indagini così come c'erano queste sette di cui ho parlato all'inizio quindi alla fine Rossella è caduta o dalla padella o alla braccia è molto difficile dal punto di vista criminologico il fatto che Rossella potesse scomparire da sola con quel profilo vittimologico che aveva con quel profilo di personalità era quasi impossibile a detta non solo nostra che ci siamo occupati dell'inchiesta ma anche delle amiche delle cugine eccetera Di questo continuiamo a parlare subito dopo la pubblicità con Francesco Altan e del caso di Rossella Corazzin a tra poco restate con noi Seconda parte di screenshot siamo ancora in compagnia di Francesco Altan che assieme a Giacomo Battare Emanuele Minca ha scritto questo libro Rossella Corazzin una misteriosa scomparsa ricostruendo tutta la storia insomma nel 1975 data della scomparsa di questa ragazza di San Vito al Tagliamento a Tai di Cadore fino ai giorni nostri Altan ce lo diceva nella prima parte insomma in questo libro c'è anche un'intervista esclusiva ad Angelo Izzo uno dei mostri del Circeo gli avete fatto le domande lui vi ha dal carcere mandato delle risposte ecco e naturalmente i lettori poi andranno a leggersela tutta ma insomma c'è qualche passaggio particolare che vale la pena sottolineare direi che lui ha confermato in toto tutto quello che ha detto i magistrati aggiunto dei particolari per quanto riguarda le dinamiche e anche della della cerimonia pseudo messa satanica che fu celebrata per stuprare sta ragazza insomma ci ha anche spiegato perché venivano realizzate queste messe la funzione reale che avevano in realtà dice queste messe servivano per incastrare i potenti insomma noi facevamo queste queste cerimonie in cui è ovvio io ti invito alla cerimonia tu non sei nulla arrivi lì ti trovi con una tunica addosso beviamo del sangue che viene tagliato dei polsi della vittima mischiata eccetera eccetera dopo c'è lo stupro della vittima che nessuno vede in faccia perché il viso è coperto e alla fine non sanno che fine farà sta qua alla vittima poi morirà e quindi questo che ha fatto sta roba è stato filmato e quindi loro l'avrebbero tenuto diciamo in pugno per tutto il resto della sua carriera o della vita questo serviva loro erano provenienti ad un ambiente di estrema destra erano tutti pariolini ed erano diciamo la manovalanza di questo gruppo serviva a imbonire i capi ma soprattutto a creare nuovi adepti e adepti importanti quindi che avevano un peso e questo sarebbe servito nel caso in cui uno di loro fosse finito nei guai si sarebbero trovati le persone giuste ad aiutarli il che non è servito perché lui comunque si è preso l'ergastolo e anche i suoi sodali sono stati incarcerati insomma alla fine della fiera un legame insomma a quello con le sette sataniche che pare emergere insomma come chiaro insomma evidente insomma alla fine di questa povera ragazza come diceva anche prima non è stata una buona fine in nessun caso a meno che non si voglia pensare che se ne sia andata di sua spontanea volontà abbia fatto perdere le tracce ma come abbiamo visto insomma molto molto difficile una possibilità remota è che qualcuno l'abbia uccisa e si è volta sul posto per esempio uno dei pregiudicati della volpera che lei aveva scritto che in un diario di questa volpera di questi personaggi che lei li vedeva in maniera molto onirica io oserei dire se non poetica chiaro è una ragazzina che viene da un paesino trova un modus vivendi completamente diverso dal suo che la affascina è attratta da questo luogo avrebbe anche potuto andare lì mangiarsi un panino e poi essere finita come è finita ma anche questa diciamo da un punto di vista statistico è meno probabile questo libro finisce con un colpo di scena non perché ci sia la soluzione del caso anzi magari ma perché le indagini vengono riaperte proprio alla fine del 2021 credo mentre voi stavate finendo di scrivere il libro sì erano già state archiviate le vecchie indagini poi a un certo punto la commissione nazionale antimafia prende in mano il fascicolo di Izzo delle sue dichiarazioni e dopo aver letto e ascoltato decidono di affidare l'indagine a un magistrato a tutt'oggi noi non sappiamo magistrato ordinario peraltro non della direzione distrittuale antimafia a tutt'oggi noi non sappiamo quali siano le decisioni di questo magistrato certo è un colpo di scena che potrebbe prevedere anche il processo e la condanna sia di Izzo che dei suoi sodali o i coautori dei reati che gli verranno ascritti attribuiti e quindi sarebbe un bel colpo di scena avere una condanna in questo caso però andrebbero a fare altri accertamenti insomma rimane sempre il dubbio di quel pozzo nella villa del lago Trasimeno da dove usciva un odore infernale una puzza di marcio incredibile e che i proprietari hanno eliminato buttando della calce viva io modestamente lì un controllino ce l'avrei fatto con le telecamere con quello che volete no? ci sono oggi telecamere con fibre ottiche che possiamo infilare da sotto e si va a vedere cosa c'è magari avranno fatto sparire tutto sono passati tanti anni ma sarebbe stato opportuno farlo secondo me in questo caso resta comunque una ferita aperta del nostro friulli in particolare a San Vito al Tagliamento dove insomma negli anni scorsi c'era stata anche una certa mobilitazione insomma dopo le parole di Izzo per cercare di arrivare alla verità insomma la comunità lo sente ancora come un delitto irrisolto che fa male sì prova ne è che venerdì scorso noi l'abbiamo presentato al teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento dove Rossella Corazzini ha abitato fino ai suoi 17 anni e abbiamo avuto il pienone non dimentichiamoci che era stata fatta una fiaccolata per aprire l'indagine sono state raccolte delle firme da parte del sindaco e del comune insomma la gente la sente ancora molto viva questa storia ci sono amiche con cui ho parlato compagni di scuola che ci sono nel libro tutte le amiche le compagnie di scuola eccetera le cugine quindi parenti e quindi è una cosa molto viva anche perché ne ha parlato chi l'ha visto diverse volte quindi direi che è un casus belli ancora vivo aperto questa riapertura delle indagini secondo lei porterà a qualcosa o è quasi un atto dovuto diciamo che poi andrà a spegnersi anche se la speranza è che scavando scavando insomma si possa trovare qualcos'altro sicuramente Rossella Corazzini non era una ragazza né famosa né di famiglia bene quindi alle volte insomma anche la magistratura magari scava fino a un certo punto e poi si arrende però insomma in questo caso qui è chiaro che la speranza è che emerga qualcosa perché ci sono insomma quelle parole di Izzo che comunque rimangono insomma abbastanza un'autodenuncia abbastanza chiara beh il fatto che prende in mano la situazione la commissione nazionale antimafia non è un fatto comune è un fatto eccezionale quindi che abbia delegato un magistrato a indagare su questo non è un fatto casuale vuol dire che la commissione nazionale antimafia ha rilevato che ci sono delle cose che non tornano o non quadrano se vogliamo dirla in breve secondo me possiamo aspettarci anche delle sorprese dei bei colpi di scena sicuramente perché ripeto non è una cosa comune non è una cosa consueta che ci sia la commissione nazionale antimafia che intervenga su questo tipo di cose e poi in quegli anni Francesco Narducci militava cortina girava con la sua bella onda rossa secondo un vostro collega giornalista che era Francesco Fiasconaro che ne ha parlato molto di questa cosa Francesco Narducci lascia spazio era stato indagato per chi non lo ricordasse è legato al mostro del Circeo in qualche modo anche insieme al farmacista poi famoso anche se poi non è stato provato nulla di fatto anche sulla morte di Francesco Narducci è tutto un mistero chi conosce la storia sa benissimo di cosa parlo quindi ci sono tante cose insieme il fatto che ci sia che ci siano oltre alle due sette una satanica una parareligiosa in Tai di Cadore nel 75 e ci sia anche un braccio armato di una loggia massonica lascia pensare dal punto di vista della scrittura come avete operato insomma giornalisti scrittori insomma in questo caso ci avete messo a sei mani però ne è uscito un lavoro completo ecco di ricostruzione allora io ho operato per la parte criminalistica criminologica Giacomo Battara che è un giurista si è occupato ed è anche giornalista tra vostro collega scientifico si è occupato della parte giuridica Emanuele Minca si è occupato ha scritto anche lui un passo e si è occupato più che altro dell'intervista e di fornire tutti gli atti giudiziari che c'erano gli atti di indagine non processuali perché non ce n'erano molti e quindi noi ci siamo ritrovati con tutto il materiale avevamo già l'esperienza di storia di villi e di delitti della nebbia che è stato un lavorone 400 pagine 14 casi di delitti risolti di cui 3 anche grazie al nostro lavoro sono stati riaperti e quindi noi siamo partiti con questa voglia di vedere cosa c'era sotto di studiare il caso di fare un'indagine articolata su un cold case che è ancora intrigante direi molto intrigante e alla fine abbiamo adottato il nostro metodo classico insomma di lavoro che funziona dal punto di vista degli amici dei parenti che sono ancora in vita che cosa è emerso insomma hanno provato a darsi qualche spiegazione di questa sparizione naturalmente insomma immaginiamo che siano ancora sconvolti da questo fatto però insomma che cosa hanno raccontato nel vostro libro allora nessuna delle amiche e neanche la cugina che ho intervistato personalmente parlo di una cugina diretta come grado di parentela hanno escluso che Rossella potesse allontanarsi da sola non aveva la struttura mentale non era formata era molto immatura e quindi non sarebbe stata in grado di prendere partire da Tai di Cadore scappare magari anche con qualcuno che l'aiutasse in ogni caso avrebbe mandato una cartolina al papà se non altro o si sarebbe fatta viva negli anni per cui questo l'hanno escluso assolutamente prioristicamente per quanto riguarda le altre ipotesi anche loro si sono dette tutte aperte ovviamente non hanno la competenza per poter dire potrebbe essere questa ipotesi o quella e noi non abbiamo voluto dare risposte in questo libro perché le risposte se le trova ogni lettore perché ci sono le risposte tra le righe cioè c'è una traccia e una sottotraccia ognuno deve trovare le sue risposte allora siamo quasi in chiusura questa è una storia vera la raccontata spesso invece si è cimentato con dei romanzi dei gialli dei thriller ecco da questo punto di vista sta preparando qualcos'altro allora il prossimo lavoro è sui delitti del mostro di Udine ricorderete che anche questo è un argomento molto tosto e inquietante anche qui abbiamo tutti gli atti processuali in originale forniti dallo studio Tosel di Udine perché senza gli atti non si possono fare indagini investigative di questo tipo quindi inchieste di questo tipo e quindi anche lì secondo me uscirà un gran lavoro perché abbiamo già visto che c'è tanto materiale e con un'analisi fatta con gli strumenti culturali attuali scientifici e tecnologici cambia molto ricordiamo un po' la cornice per chi non se la ricordasse del mostro di Udine sì parliamo di 14 prostitute non perché una non era una prostituta uccise a Udine tra gli anni 70 e il 2004 in particolare proprio c'erano quattro delitti che possono essere tranquillamente ascritti a un'unica mano un serial killer che marchiava con un taglio cesareo vecchio tipo quindi verticale non orizzontale tutte le vittime quindi bypassava l'ombelico un taglio superficiale che serviva solo da firma e la firma dell'assassino quindi lì inequivocabilmente c'è la stessa mano negli altri invece ci possono essere altri serial killer o altre mani singole insomma staremo a vedere pronti a leggere anche questo nuovo lavoro che sicuramente è interessante che fa luce su un altro dei misteri del nostro fiuli grazie a Francesco Altan per essere stato con noi grazie a voi buonasera a tutti finisce qui dunque questa puntata di screenshot grazie per essere stati con noi l'appuntamento è come sempre per domani sera arrivederci grazie a tutti